Abbiamo molti cani, 18 coppie, sono tanti, bisogna pensare ad allassare un momentino la sticciola per fare partecipare un numero minore di cani, altrimenti rischiamo di perderci sul serio. Fra tanti sono i pointer oggi, tantissimi sono i setter nella stessa giornata. Speriamo di farcela fino alla fine, ci auguriamo che il tempo tenga e sembra di sì, il clima è buono, mi sembra buonissimo anche iniziare con questi colleghi con i quali ho buona confidenza e nei quali conto fino in fondo. Auguriamoci che tutto finisca per il bene. Grazie 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 a tutti. 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 che. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. che. che. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.